Un uovo speciale, oltre alla forma, a renderlo unico il sapore della solidarietà. È l'ovone delle Dolomiti, realizzato dalla collaborazione fra due realtà no profit, Nina Cacao, la cioccolateria sociale e artigianale con sede nel centro storico di Belluno, nata dal desiderio di creare una filiera etica, inclusiva e sostenibile, che coinvolga i piccoli produttori dell'Equador e le donne che vivono situazioni di fragilità sociale ed economica per dare loro un'occasione di riscatto mediante la formazione e l'inserimento lavorativo e la cooperativa sociale Samuele, realtà trentina impegnata per la creazione di percorsi di inclusione sociale attraverso la formazione al lavoro. Ogni uovo è l'espressione di un lavoro autonomo realizzato dalle donne che noi coinvolgiamo all'interno della nostra cioccolateria sociale e artigianale. Sono tutti dipinti a mano per cui ogni uovo è un'opera d'arte unica e nonostante l'uovo sia piatto all'interno della scatola andiamo a trovare una sorpresa che è realizzata appunto dai ragazzi che la cooperativa Samuele coinvolge all'interno dei propri laboratori del cuoio e ogni sorpresa è realizzata artigianalmente a mano recuperando gli scarti dei pellami di fine serie e della sportiva che utilizza per la realizzazione di scarponi e scarpette. Cooperazione, solidarietà, il valore dell'economia circolare e non solo tante le sfaccettature espresse da queste vere e proprie creazioni di cioccolata. Non manca inoltre il riferimento alla bellezza del paesaggio montano. Ogni uovo è infatti l'espressione di uno degli elementi delle dolomiti quindi abbiamo il tramonto, abbiamo il bosco, abbiamo il cielo stellato e poi per concludere abbiamo anche il prato fiorito. Un dono che diviene simbolo di un lavoro autonomo e gratificante di chi con fiducia guarda ad un nuovo progetto di vita. Una Pasqua solidale che va a sostenere non solo la nostra realtà ma anche un'altra realtà come appunto detto la cooperativa Samuele quindi davvero un nuovo piatto dal doppio impatto.